Ciao, oggi c'è arrivato un regale speciale, questa bellissima friggitrice ad aria dell'azienda Bir. Non vediamo l'ora di provarla, la proviamo subito. Prepariamo delle chips veloci, pegliamo tre patate, le tagliamo con la mandolina, le versiamo in una ciotola, li condiamo con sale e rosmarino tritati, sale e curcuma. Mescoliamo bene, le versiamo nella friggitrice a 180 gradi per 15-20 minuti. Ricordatevi di mescolarle ogni tanto. Buone, super croccanti, buonissime.